Lui la baciò stringendola a sé, la voleva, voleva possederla, penetrarla, amarla. Lei si alzò lasciandolo eccitato sul letto, tornò subito disse e tornò con indosso solo una sottile vestaglia rossa. Lui la avvicinò ancora a sé per baciarla sul collo, sui sieni piccolissimi e poi scendere sul ventre, mentre quel velo sottilissimo di seta cadeva lasciandola completamente nuda. E fu allora che lo vide. Lì, proprio di fronte alla sua bocca, era un pene, un piccolissimo pezzetto di carne in posizione schiva, intimidita. Sconvolto la scostò. Tu lo sapevi, vero? Balbettò lei, ma lui non rispose e corse in bagno. Non è buffo come vanno le cose, non lo trovi buffo? Non vanno mai come ti aspetti, disse lei per scrollarsi la vergogna ridosso. Perdonami, disse lui, e scappo via. Benvenuti alla Maleducazione, questa sera parliamo di tabù. La mia sexualità ritengo sia molto nobile. La mia sexualità ritengo sia molto nobile. La vedo sviluppata nell'intimità di un rapporto prettamente di coppia. Non sono interessata alle cose strane, a tipi di sessualità trasgressive o particolari. Durante un rapporto è difficile che io faccia capire cosa voglio, perché mi sento un po' complessata col fatto che io non mi do molto da fare. Sono abbastanza passiva. Sicuramente non sono un egoista. Sono passiva, ecco. Io non faccio l'amore, io faccio sesso. Sesso, il fatto di carne vera, di sensazioni forti, di baci, di sudore. Insomma, è una cosa forte, ecco, mi piace così. Nel sesso mi capita di essere dominata e mi piace molto, ma mi piace anche molto dominare. Sicuramente di tabù io ne ho avuti tantissimi, perché mi vergognavo, perché pensavo di non piacere. Crescendo poi impari e sono arrivata alla mia età nel sesso. Io so quello che voglio, so quello che mi può piacere. Tabù per me significa una barriera fondamentalmente che è nella mia testa. Principalmente sono limitazioni poste dal tipo di educazione. I propri tabù sono quelli più pesanti, perché hanno origine ancestrale. Sono le cose più difficili dalle quali allontanarsi. In questo periodo della mia vita non ho tabù per ciò che riguarda la mia sessualità. Il mio tabù è un po' il mio cambiamento fisico. Vedo che comunque sto crescendo. Non sto invecchiando, perché dire sto invecchiando a 38 anni mi sembra un pochino presto. A me dei corpi in generale piacciono i dettagli. Nel senso che a me di uno guardo la faccia, un altro guardo le spalle. A me piacciono un po' tutti, devo dire. Cioè non è che poi me li farei tutti. In effetti le mie aspettative vengono sicuramente deluse, perché gli uomini non sanno fare sesso. Negli anni sono diventata molto esigente. Negli anni sono diventata molto esigente. Una donna completamente senza tabù è difficile da trovare, ma noi ce l'abbiamo, chicca. Tu non hai nessun tabù? Adesso non mi viene nessun tabù, magari se ne fai venire uno tu, magari ci penso, però così in generale no, in generale no. Invece dall'altra parte abbiamo Paola, che invece ne ha parecchi, e dicevi nel filmato per me il tabù è una barriera mentale, quindi è una cosa che io penso e quindi questa cosa che io penso mi mette un freno. Una cosa radicata più che altro, perché la penso indotta, ho avuto un tipo di educazione che mi ha indotto a frenarmi. E nel tempo l'educazione ricevuta non si è un po' affievolita? Si è affievolita però soltanto nell'ambito di un rapporto stabile, cioè io non riuscirei con l'acquassionalità ad avere neanche forse la curiosità di vedere se riesco ad andare oltre alcune cose che invece sento di poter avere con un compagno stabile, insomma. Quindi non avere tabù potrebbe tradursi non essere curiosi? Sì, io penso, sono una curiosa nata, ma non nel sesso. In tutto tranne nel sesso. Allora, stasera alla Maleducazione cercheremo di parlare di tabù con due donne che sono esattamente dai poli opposti. Da una parte nessun tabù, dall'altra molti tabù autodichiarati. Voi avete tabù? Potete raccontarcelo sul nostro sito www.lamaleducazione.la7.it Sul nostro spazio forum Pensieri Stupendi scopriamo se anche voi e anche tutte le nostre amiche hanno, avete, avete avuto quali sono i vostri tabù? Che cos'è un tabù per ognuna di noi? Andare con un uomo sposato è un tabù? Per esempio per te, che non ne hai, potrebbe essere un tabù? No, non è un tabù. Non ti interessa? Anzi, anzi, meno coinvolgimento, solo sesso, basta. E per Paola invece? Per me è un problema e diciamo è un principio al quale cerco sempre di non derogare perché sono una possessiva e quindi... Ah, quindi se non è tuo, tuo, tuo? Sì, sono possessiva, ripeto. Moi. Solo tuo. Solo mi. Invece volevo sentire Elvira, perché il tuo concetto di tabù verso una relazione o un approccio sessuale con un uomo sposato è cambiato nel tempo. Sì, assolutamente sì. Quando ero giovane non beccavo mai nei pollai altrui. Adesso è molto più semplice. Quando ero giovane non beccavo mai nei pollai altrui. No, non volevo lo facessero a me, non lo facevo io. Invece l'ho sposato e è meraviglioso adesso. Intanto non si appiccica perché ha i suoi problemi. Io mi prendo il meglio. Belli, sempre con la barba fatta, tutti profumati, non li vedo in pigiama, in ciabatte. Non hanno i problemi da scaricare su di me, ma anzi, io sono quasi una benefattrice, secondo me, faccio benissimo al matrimonio, davvero. Tutti i miei accompagnatori hanno poi dei matrimoni che migliorano nel tempo. Se a me piace fare un po', perché loro donano dalla moglie tutti belli contenti. Ma tu sai se con te fanno a letto delle cose diverse rispetto a quelle che fanno con la moglie? Sicuramente, sicuramente. Ma nella tua esperienza, fuori dal matrimonio, un uomo lascia qualche tabù per strada oppure si porta dietro quelli che arrivano da casa? Molti, alcuni entrano in una storia tipo, io però con mia moglie non lo farei mai, capito? Invece, vorrei passare a Dorota. Per te andare con un uomo sposato è un tabù o è una cosa che ti concedi? Per me è un tabù, perché contro dei miei principi, anche ci sono tanti uomini liberi, perché io devo andare con uno sposato, perché ecco, io voglio essere la prima donna, insomma. Come per Paola, voglio essere... Attenzione su di me. Ecco, quindi forse è capitato. Che ho conosciuto da una persona che mi piaceva moltissimo, ecco, e questa persona anche è stata con me a Capodanno. Che bello! È bellissimo, quindi era una cosa romantica, bellissima, ma dopo due settimane ho scoperto che questa persona è finanzata. Ha detto alla sua compagna, praticamente che era malato, è venuto a Capodanno con me, e ho lasciato questa ragazza, insomma, da sola con degli amici. Italiano? Italiano! Bugiardo! No, volevo dire, riguardo a dei tabù, che un pochino avere dei tabù è una cosa anche bella, perché come superare queste barriere, scoprire una cosa nuova? Quindi un pochino, perché dire tutto proprio, fare tutto, diventa un po' noioso alla fine, cioè, mi capita anche... Ah, tu dici, se metto dei paletti mentali, e poi nel tempo, magari uno per uno li vado a superare, è una sorta di linfa vitale che tu metti nella tua attività sessuale? Sì, una crescita anche, una cosa, perché non è tutto uguale, in tempo tutto cambia, cambiano questi tabù, cambiano le situazioni. Volevo invece sentire Deborah, per te che cos'è tabù? Tu sei una donna abbastanza libera, mentalmente aperta, sessualmente disinibita. Per me tabù è fare una cosa controvoglia, qualcosa che non è nelle mie corde, che non ho desiderato sperimentare, se mi ci dovessi confrontare, quello sarebbe sicuramente un tabù, una forzatura. Per esempio, per te quale potrebbe essere una forzatura? Guarda, Dorota dice, mettere qualche paletto ogni tanto serve, io penso invece che non serva, a me non ne metti e meglio è, perché il sesso è molto più ampio di come noi lo immaginiamo, e di come noi ne stiamo parlando qui, che già è molto aperto. Molto. Alessia, tu che hai un'esperienza un po' più allargata, cosa vedi come tabù? Dunque, intanto per me il tabù è quel qualcosa che vorrei fare e che mi autoimpongo di non fare, per delle insicurezze che ho nella mia mente, nel mio carattere. Cerco di lavorarci molto su questo, nel senso che cerco di lavorare sui miei tabù, cerco di lavorare sulle mie paure. Per molte donne, secondo te, è un tabù andare con un'altra donna? Assolutamente sì, per me lo è stato tanto, tanto, tanto un tabù. E lo è stato non nel momento in cui io pensavo, non quando desideravo fisicamente una donna, nel momento in cui io desideravo fisicamente una donna, credevo fosse una cosa normale che tutte le donne potessero farlo, no? E oggi mi rendo conto che accade. Il mio problema è nato nel momento in cui io ho provato dei sentimenti d'amore nei confronti di una donna. Quello per me è stato un tabù enorme da superare. Ah sì? Perché non lo credevo possibile, nel senso che ho pensato oddio sono lesbica, mia nonna morirà d'infarto. Non credevo possibile l'idea di poter amare una donna. Pensavo che per me la donna potesse essere soltanto un desiderio sessuale e che i miei sentimenti potessero coinvolgere solo gli uomini. Chica, tu che non hai tabù, ti sei mai innamorata di un'altra donna? No, io sessualmente delle donne non sono attratta. Non ti piace? Non sono attratta sessualmente, ma infatti c'è tabù. Tabù, tabù, se una cosa non piace non è un tabù. Cioè se non ti piace non ti piace. Un tabù è come appunto diceva lei una cosa... Una cosa che tu pensi... Che magari è questo desiderio, però è anche giusto come dice lei magari di tenerlo un po' dentro, scoprirlo un po' dopo, poi... È bella questa cosa, mi piace. Cioè si porta a star bene, a creare anche un po' di... Di pizzicore. È bella, mi piace. Chi invece ha un tabù sull'omosessualità tra donne o tra uomini? Chi proprio fa fatica... Eleonora? Io fra donne. Ho fatto fatica a provare attrazione, insomma, comunque anche a pensare di essere attratta sessualmente da una donna. Però adesso inizio, dopo aver frequentato questo salotto così interessante, inizio a pensarlo, no? Fantasticarlo, un pochino aprire la mente. Però faccio fatica a vedere due donne che si baciano, mentre ho meno problemi a vedere due uomini che si baciano. E invece il tabù sul corpo? Perché il corpo ogni tanto ci mette a disagio, davanti allo specchio. Paola, per esempio. Ma il tabù sul corpo, per quanto mi riguarda, è relazionato al fatto magari di non piacere, di non vedersi delle cose che, diciamo, noi per prima non accettiamo e che pensiamo che all'altra persona possano non piacere o fondamentalmente non eccitare come vorresti invece facesse. Per esempio a te e del tuo corpo cosa non piace? Ma non molto le gambe, ma per esempio ho avuto delle persone che impazzivano per le mie gambe, per me sono un po' tozze, un po' mascoline, invece ho avuto delle persone che mi dicono quanto mi piacciono le tue gambe così muscolose, le spalle, il seno, tutto. E tu ti sentivi a disagio davanti ai complimenti? No, diciamo che... O ti rassicurava, ti rafforzava? A disagio mai, a disagio mai. Invecchiandomi mi trovo migliore, mi accetto di più e uso, ho imparato a usare quelli che io ritenevo difetti. Sul corpo, Verusca, i tuoi tabù? No, diciamo che a me è sempre stata contestata la mia magrezza. Ma allo specchio ti vedevi troppo magra secondo il giudizio degli altri oppure ti piacevi? Allora io mi sono sempre piaciuta, però questa cosa a forza di sentirmela dire mi ha cominciato a mettere la famosa pulce nell'orecchio. Non è possibile che sembro così scheletrica, che sono senza sedere, senza seno, io non mi vedevo poi così priva di sedere e di seno. Però ecco, poi oddio mi si vedono le costole. Sono spigolosa da maneggiare, non sono morbida. Esatto, anche perché la mia prima relazione, quando è terminata, terminata appunto il mio ragazzo che mi diceva Ehi sai, la ragazza di cui mi sono innamorato adesso è morbida, si abbraccia bene. Tu sei tutta scheletrina, così. Se ci sono delle cose che si possono o non possono fare nell'ambito sessuale tra due persone, adulte, consenzienti, io non so chi ci possa dare una risposta su cosa si può o cosa non si può fare. Però abbiamo posto lo stesso quesito a un nostro amico Alessandro Cecchi Paone. Io non credo di avere tabù proprio perché sono estraneo per la mia formazione culturale al concetto di peccato, di tabù, di trasgressione. Sono figlio di una cultura che insegna il principio di responsabilità, di conoscenza di sé, di rispetto degli altri, ma non sulla base di divieti, di imposizioni, di scomuniche, di condanne, di anatemi. Ma proprio sulla base del concetto che l'unica società giusta possibile è quella formata da uomini liberi e sani che dichiarino agli altri chi sono per una forma di rispetto nei confronti di sé stesso e nei confronti della comunità. Di conseguenza no, non ho tabù, ma sono molto fiero di rispettare le leggi, di rispettare il buon senso, il buon gusto, il senso del pudore, l'attenzione alla sensibilità degli altri. Tutto quello che mi può mandare al letto sereno e farmi svegliare al mattino sapendo di aver fatto tutto quello che era il mio potere per non far star male gli altri. Nel sesso è permesso tutto fra persone adulte e consenzienti e libere di scegliere e ovviamente nell'ambito delle leggi, ma per quanto riguarda i tabù, così come per quanto riguarda la trasgressione, questi non hanno senso proprio perché sono semplicemente figli, relitti di culture repressive e di culture del divieto che soprattutto colpivano le donne e le minoranze dal punto di vista delle inclinazioni sessuali. Ma è chiaro che nel momento in cui si affermano i principi di fondo della democrazia liberale, che sono quelle della autodeterminazione, della libertà dell'individuo da solo in relazione agli altri, è chiaro che né la trasgressione né i tabù hanno più un senso. Non a caso ne parlava Pasolini e negli anni Sessanta. Oggi nei paesi liberi dell'Occidente non ci sono né Pasolini né tabù. Mi piace questo? Non ci sono né Pasolini né tabù. Forse un po' stiamo cercando di fare quello che aveva fatto Pasolini negli anni Sessanta, di fare questi comizi d'amore e chiedere alle persone come vivono il sesso. Non so se vi ricordate un documentario bellissimo. Girava l'Italia e chiedeva nei posti più disparati come lo fate, cos'è il sesso. Un po' poneva le stesse domande che ci stiamo ponendo noi qui alla Maleducazione. Vorrei dare benvenuto alla sezione maschile del nostro salotto. Fabio, Giorgio, Morgan e Marco che l'ha in fondo. Allora stiamo parlando di tabù e siamo arrivati a parlare del tabù tra noi fanciulle sul corpo. Subito, voi avete qualche tabù rispetto al vostro corpo, signori uomini? Morgan? No, assolutamente no. Cioè nel senso che ho vissuto fortunatamente sempre un buon rapporto con il mio corpo. Poi certo c'è il periodo che ti vedi meglio, il periodo che ti vedi peggio, però insomma tranquillamente cerco di conviverci bene. Vuoi dire che lavoro fai? Attore Arda. Non fai l'attore porno. Quindi un attore porno non può avere un tabù rispetto al proprio corpo visto che... No, però ci sono quei periodi magari in cui ti vedi anche non benissimo in forma, però convivi tranquillamente con... Non ti blocca questa cosa? No, assolutamente voglio dire. Perché mi devi bloccare? Giorgio? Non faccio l'attore porno. No, dice no, dice no. Io non ho nessun tabù. Perché... Niente sul tuo corpo? Sul tuo corpo? No, perché... Perché necessariamente non mi è mai successo che uno mi ha guardato con adi di vomito o cose del genere. No, però per te, per come ti guardi allo specchio, per come ti percepisci. Non mi piacciono e c'ho un po' di fianchetti qui. Allora, questo è un piccolo tabù per me. Veramente, cerco di mandarli via, ma all'età mia... Lascia stare, Giorgio, non vanno via. Marco, invece. Tu hai tabù sul tuo corpo? Un tabù no, però ha quel limite che comunque ci stai attento. Sai che lo devi seguire, non devi lasciarlo andare. E poi... Nella sua interezza al corpo? Nella sua interezza. Cioè, chiaramente sai che non sei una statua e quindi non puoi, diciamo, eccedere o lasciarlo andare. E poi aspetto di vedere il tabù dell'invecchiamento del corpo, via via, che quello, secondo me, è un altro tema che ha un suo, insomma, una sua tragicità e profondità, quanto meno. Mai quanto per una donna. Vediamo, vediamo come... Mai quanto per una donna. Ma ora il Vira stanno già scotendo la testa, ma ci arriviamo. Fabio, invece, tu, sul tuo fisico, hai qualche tabù? No, sul mio corpo nessun tabù. Vivo con naturalezza, con anche piacere, il mio corpo. Riconoscendo, certo, ho un naso un po' importante, non sono altissimo, però come puffo mi vado bene. Come puffo ti vai bene. Prima abbiamo ascoltato Alessandro Cecchipaone e lo metto in riferimento a te perché tu sei passato... Per quale motivo? ...da essere eterosessuale invece a omosessuale. La trasformazione. La trasformazione. L'omosessualità è un tabù? Sicuramente è vissuta come un tabù. Quindi per gli altri? È vissuta per gli altri come un tabù. Altrimenti non ci sarebbero tutti questi problemi nel vedere due uomini che magari si danno un bacio. Per qualcun altro è un tabù l'omosessualità? Per tutti. Marco, per esempio? Secondo me, a livello maschile... Da uomo a uomo? A livello maschile è il tabù secondo me numero uno in assoluto, cioè viene vissuto da moltissimi in questo modo, quindi secondo me è inutile. E' impossibile negarlo. Ma per te, tu, immaginarti omosessuale è un tabù? Per esempio Eleonora prima diceva, voi non c'eravate, diceva io solo immaginare un rapporto con una donna andavo in confusione, era una cosa che un po' mi metteva a disagio anche Paola. Per te, uomo? No, per me non è un tabù nel senso che so che è una cosa che non mi interessa, però lo dico con grandissima serenità, cioè nel senso ho molti amici omosessuali, ho, diciamo, quando mi è capitato di prendere delle posizioni anche molto forti in loro, in difesa, in alcune circostanze poco piacevoli, ho sempre fatto, perché lo ritengo una delle cose fondamentali, non solo per l'omosessuale insieme, ma perché è quasi una punta dell'iceberg della, diciamo così, della civiltà, no? Perché chi non riesce ad accettare una cosa del genere vuol dire che non riesce ad accettare qualsiasi diversità. Per te invece Morgan? No, personalmente assolutamente no, nel senso che io non mi metto nemmeno limiti, cioè dico, non sono omosessuale, in questo momento non andrei con gli uomini, però fra dieci anni chi lo sa, ma me la vivo tranquillamente, voglio dire, cioè senza problemi, i tabù sono altri, dai. Per esempio quale può essere un tabù? Il tabù io ho notato una cosa, il tabù più, il tabù più, il tabù più. Il tabù più banale, secondo me, è quello di parlare di sesso. È un tabù parlare di sesso? Sì, 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 molte persone non ne parlano tranquillamente proprio, il solo parlarne li manda in tilt, in alcuni casi, naturalmente. Bene, qui possiamo dire che qui noi tabù... Non abbiamo assolutamente, abbiamo assolutamente tutti i tabù. Non ne abbiamo. Non ne abbiamo. Roberta, cos'è che volevi aggiungere? Io faccio un lavoro per cui sono sempre a contatto con un ambiente molto maschile, quindi una donna che parla di sesso, di come lo fa, di come lo vive, in genere non viene vissuta, soprattutto in alcuni ambienti, come una persona che sta parlando di sé, quindi di un aspetto della sua vita. Ah, se ne parla così, chissà che numeri che fa. Quindi era un mio tabù. Oppure ne parla talmente tanto che non lo fa proprio. Sì, beh, no, in genere secondo me gli uomini, soprattutto gli uomini che sentono parlare di sesso una donna, se ne fanno subito un'idea di appunto chissà che cosa fa. Quindi era un mio tabù, che ho deciso di superare perché... perché basta. Basta? Basta. Allora, abbiamo parlato di uomini, di donne, la transessualità come la vivete? Come un tabù? Giorgio, per esempio, tu avresti la curiosità o per te è un tabù scoprire la sessualità con un trans? Allora, mentre quanto riguarda il discorso del gay non c'è assolutamente alcun tipo di interesse, il trans per un certo verso mi può anche interessare, certo c'è da superare quel piccolissimo scoglio, quello centrale. Potrebbe anche essere grande, mi dicono, eh? O grande scoglio. Potrebbe anche essere grande. Diciamo quell'isoletta centrale, superata quell'isoletta, ma anche perché ci sono dei trans bellissimi, quindi praticamente. Però purtroppo c'è sempre, ripeto, questo antipaticissimo scoglio. Scoglio. O antipaticissimo. O simpaticissimo. Per Fabio, per esempio. Tanto antipatico non è. Tanto antipatico non è. Invece per le donne, Serena, la figura del trans com'è? È accattivante, interessante, ti incuriosisce. Incuriosisce. La, diciamo, il motore fondamentale nella mia sessualità oggi è la curiosità. E i trans mi incuriosiscono. Andressi. Ho avuto delle proposte da un trans molto bello. Al momento non me la sono sentita, ma non io. In realtà era un contesto per cui sono stata bloccata da altri. Però mi è rimasta la curiosità. Ma cosa ti intriga? Mi intriga molto nel trans questa sensualità esplosiva data da un cocktail tra femminile e maschile insieme. Ma tu sapresti maneggiare il corpo di un transessuale? Pensaci. Pensaci. Torniamo tra pochissimo a parlare di transessualità. Trans, uomini, donne, gay, lesbiche, sesso. E tabù. Bentornati alla Maleducazione. Questa sera stiamo parlando di tabù. Chi ne ha, chi non ne ha. Tabù sono un limite mentale. Sono imposti dalla società, dalle regole, dall'educazione. Il tabù. Se volete partecipare a questa discussione fuori da questo salotto venite sul nostro sito www.lamaleducazione.la7.it c'è uno spazio, si chiama Pensieri Stupendi e lì vi aspettiamo a braccia aperte. Ce l'avamo lasciati poco fa parlando del trans o delle trans. Qualcuno durante la pausa mi ha detto ma si dirà il maschile o il femminile? Io onestamente non lo so. Faccio un po' e un po' sperando che mi arrivi un'informazione più chiara. Nel frattempo eravamo rimasti con Serena che avrebbe questa curiosità di avere un rapporto con una trans. Come gestiresti fisicamente l'atto? Me l'hai smontata la fantasia. Non mi verrà più perché per me è una dimensione mentale. E' più l'intrigo che ci può essere tra di noi. Sicuramente la trans la vedrei in un ruolo di dominatrice. Così almeno per quella che mi ha approcciato e così mi immagino una situazione in cui un po' io più che usare lei sono usata. Invece Marco diceva prima, Marco avrebbe questa curiosità? La curiosità, secondo me la curiosità c'è quasi per forza. Cosa ti attira? Perché è talmente una cosa al di fuori degli schemi, è talmente completa se pensiamo alla cucina future, cose di questo genere che uniscono tante cose. Sì sì ma non ci girare intorno Marco, cosa ti attira? Se dovessi esprimere proprio una fantasia ce l'avrei più che averci io un'esperienza direttamente basta, perché infrangerei una serie di cose che forse non voglio infrangere. La mia fantasia è introdurlo in un ambito di coppia, cioè giocarci con la mia compagna. Questa è la configurazione che più mi... cioè non lo immagino in un contesto diciamo completo, ma in un contesto di quasi di... è brutto dirlo forse come frase, quasi di scenografia. L'immagino proprio come oggetto da ammirare, da studiare, un po' questa cosa. Ti faresti fare un affellazio? Che buono! Vabbè, sì, diciamo che lì in quel caso... Diciamo sì, sì. Sì? Sì. Giorgio? Tu ti faresti fare un affellazio da una trans? Dovrei escludere nella mente... Dovrei escludere nella mente, ripeto, quel particolare, perché se no non credo che ci riuscirei. Quindi se tu escludessi... Esatto, perché per me può essere un tetris, però un tetris con una porta sbarrata, per cui voglio dire un tetris in una porta... No, veramente adesso, una porta anche mentale deve essere completamente sbarrata. Ma tu una affellazio te la faresti fare? Cioè, permetteresti una affellazio? La affellazio è una porta ancora, diciamo, aperta. È l'altra porta che purtroppo, purtroppo, che io non riesco proprio mentalmente... Perché è un tabù? Ecco, questo è veramente... questo qui è veramente un mio tabù. E Fabio, invece? Io la curiosità verso trans non l'ho mai avuta. Nel senso che, sì, in adolescenza con le donne, poi sono passato agli uomini e sinceramente a me attrae l'uomo barba, non barba, molto maschile. Per cui, sinceramente no, ho le idee chiare. Va bene, mi voglio far vedere questo filmato. Ho telefonato a mamma a pianto dalla felicità di dare il tuo vestito da sposa e di merletto bianco. Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo. Qualche colpo di forbice. Ah no, te lo scordi? Oswood, voglio essere leale con te, non possiamo sposarci affatto. Perché no? Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale. Non mi importa. E fumo, fumo come un turco. Non mi interessa. Ho un passato burrascoso, per più di tre anni ho vissuto con un sassofonista. Ti perdono. Non possono mai avere bambini. Mi adotteremo un po'. Ma non capisci proprio niente, Oswood. Sono un uomo. Ma nessuno è perfetto. Il filmato credo avvantissimo, perché a qualcuno piace caldo e ogni tematica è ristretta in questi pochi secondi. Morgan? Guarda, il trans non mi incuriosisce assolutamente. Però inserito in una situazione di gioco, magari con più persone, sarei tranquillamente a mio agio, voglio dire. Anche io poi, però lì, come lui, ho dei paletti sui quali che non supero in questo momento della mia vita. Hai i tuoi tabù. Ma tu una felazza te la faresti fare? Ma sì, assolutamente. Però mi fermo là, insomma. Non vado oltre. Non vai oltre. Assolutamente no. Giulia? Devo dire, per quanto mi riguarda, capisco perfettamente l'attrazione derivata dal trans, perché il trans, nei pensieri penso di chiunque, è l'essere perfetto. La completezza sia nel sesso che anche nel carattere, perché ha caratteristiche femminili anche come atteggiamento. Per cui io non ho neanche una paura di tipo... Ma hai una curiosità. Fisico, sì, ho una curiosità. Paola, tu che sei l'altra metà di questa puntata sul tabù, quindi una donna che i tabù ce li ha e li manifesta con consapevolezza. L'idea di avere o una relazione o un momento con un trans o una trans, per te è un tabù o una cosa che ti potrebbe solleticare? È un tabù, a me piace proprio la virilità dell'uomo. Quindi vederla camuffata o comunque artefatta di un uomo che poi è una donna, però mantiene delle fattezze maschili. Quindi ha comunque innato una virilità e poi ha anche delle forme più corpolente, meno femminili. È una cosa che mi disorienta. Ti disorienta. Assolutamente sì. Adesso sia Paola, sia Chicca ci racconteranno qualcosa in più sulla loro sessualità legata all'assenza di tabù e alla presenza invece di molte barriere. Vediamola. Il mio più grande tabù è sicuramente il rapporto con un'altra donna. Il pensiero di avere un'intimità con un corpo femminile mi ripugna. Perché non ho proprio attrazione verso un individuo del mio stesso sesso. Per quanto io abbia una grande ammirazione e affascinazione del corpo femminile, se una donna mi toccasse mi darebbe fastidio. I miei tabù sono i tabù degli altri, nel senso che in effetti subisco i tabù degli altri. E' stato sicuramente il mio pisello, il mio problema principale. Poi adesso è diventato il mio punto di forza. Anche se per gli uomini rimane un tabù. Comunque. Nella mia vita non ho avuto molti uomini, ho avuto molti amori, molti rapporti intensi, ma molti uomini no. Mi piace avere rapporti e mi è capitato con uomini parecchio più giovani di me. Ovviamente rapportarmi a ragazzi di un'età, in teco, ventenni, assolutamente no. Mi si saurebbe tutta la vena erotica. Essere transessuali per la società, sì certo, è un tabù. È un tabù perché le cose che non si conoscono magari danno sempre un po' di pensiero. Questi qua. Diventare una trans è stato assolutamente un passaggio molto naturale. Perché poi il bello è che non ho dovuto fingere. Nel senso che non è che mi sono nascosta in un corpo che non era il mio. Sono proprio cresciuta così. Cinemara. Al silicone. Che sia con noi. All'interno di un rapporto stabile ho difficoltà a pensare a dei tabù. Non ho fatto attività particolari che possono essere l'uso di oggetti o mascheramenti o cose strane. Anche se ho un atteggiamento passivo, mi piace trasgredire con la persona con la quale ho un rapporto intimo. Per compiacere, per far star bene l'altra persona, sono disposta a tutto. Il mio tabù sicuramente più grosso era proprio di farmi vedere nuda. Un uomo, se tu dici che sei operata o sei una trans, o gli piaci perché sei trans, allora gli piace anche perché sei operata. Ma se proprio uno non ti vede nelle sue fantasie, per un uomo è sempre comunque un tabù il pensiero che tu eri un uomo. Quando ero più giovane era molto importante il comportamento degli altri. Per cui se incontravi quello che aveva il tabù del pisello cercavo di assecondarlo. Adesso non è più così. E adesso come la mettiamo? Svelato l'arcano. Svelato l'arcano. Io conosco Chicca da qualche mese e quando l'ho incontrata e poi mi hanno proposto di parlare di sesso ho subito pensato a lei perché quando mi ha raccontato di come è passata da essere uomo a donna mi aveva affascinato perché vorrei che lo raccontassi tu. Cosa ti ho raccontato? Che hai fatto questo passaggio molto giovane seguita dai tuoi genitori. Sì, sono stata fortunata. Una grande fortuna. Sì. Fortunata perché ho avuto dei genitori assolutamente intelligenti che mi hanno lasciata crescere. Mi hanno lasciata crescere sempre con un'attenzione ovviamente perché è psicologo. E c'è una frase che tu mi hai raccontato che mi era piaciuta. A un certo punto lo psicologo nato dai miei genitori ha detto non è né maschio né femmina. È proprio questo. Cioè la sua interezza è la sostanza, la psicologia, l'anima, la sessualità, il valore, l'emozione di una sola persona. Sì, sono stata anche fortunata perché hanno fatto capire ai miei genitori che assolutamente il mio non era uno scherzo. Cioè non era un... E questo però io ti parlo avevo 12 anni, eh? 13 anni. Già io ormai la mia personalità... Era definita. Sì, stava uscendo veramente molto per cui preoccupati ovviamente ma non preoccupati perché io crescevo così. Preoccupati per come... Per il mondo. Per il salute mentale soprattutto. Infatti io il 90% della mia salute mentale che ritengo di avere sicuramente la devo a loro perché mi hanno lasciato assolutamente crescere bene. Vedo le facce... Chi colpite, chi sorridenti, chi basite, chi wow chi... non l'avrei mai detto. Chi aveva avuto la percezione che chicca non fosse una femmina? Guarda, lo sapevo. Giuro che guarda, lo sapevo. Giorgio? Lo sapevo. Giorgio? Avevo veramente... No, ma io vorrei dire una cosa... Ma perché l'unico che le piacerebbe non è... No, no, no. No, io... Guarda, lo sapevo. No, no, scusa, posso dire... È il classico. Tu te ne eri accorto perché? Me ne ero accorto perché nelle movenze aveva qualcosa che... E l'avevo detto, l'avevo detto ad Ambra, c'era qualcosa, ma piacevolmente, attenzione, ma in assoluta... Ma io ripeto, è il mio, è il tabù, è un altro tabù. Non è che ci sono quelli come te che se ne accorgono, mi facilitano anche il compito. Sì, non è un'unico... Sì, non è un'unico... Sì, non è un'unico... Sono molto felice che lei abbia questa serenità perché non deve essere stata una cosa facilissima, insomma. Sicuramente. Adesso possiamo finalmente chiedere a Chicca come fa l'amore a un trance o una trance. Guarda, io sono una delle persone più normali, tra virgolette, nel senso che mi lascio un po' coinvolgere dalle situazioni. Per cui ci sono volte che mi diverto un po' di più, sono molto più... un po' più fantasiose e alcune volte un po' più classica. Perché non è che mi invento delle cose per fare sesso. Con classica cosa intendi? Classica? Guarda, l'importante sicuramente in un uomo mi deve toccare. Questo è poco ma sicuro. Lui esiste e deve essere usato. Punto. Sicuramente. Se no, non mi ci metto neppure. Sei più attiva o più passiva? Non c'è un ruolo, assolutamente. Sì, sì, sì. Mi piace. E gli uomini cosa ti chiedono? Ma io ho tanti uomini che vedo, magari in uno magari un pensiero anche bello, però mi piacerebbe che mi avvolgesse, insomma una cosa un po' più così. Mentre invece in altri dico, oh cazzo, quello però ecco, se me lo dà glielo metterei volentieri. Bene. No, dico bene. Paola, ma un po' ti incuriosisce questa disinvoltura? Assolutamente sì e mi ha aiutato tantissimo. Per me è stato terapeutico partecipare a queste puntate proprio per i tabù, che ho difficoltà. Per esempio lei mi rassicura tanto. Sì? Sì, sì. Moltissimo. Cosa che non avrei mai creduto. In che senso? Perché è proprio risolta e uno secondo me vive una normalità sessuale che poi non ha risolto un sacco di cose. Invece già in una problematica basica perché insomma un uomo che nasce con delle tendenze femminili o viceversa già ci sono delle problematiche. Quindi vederle così poi accettate. Il superamento delle problematiche. In realtà i miei problemi mi sembrano proprio miserrimi. Più piccoli. Assolutamente. Che però dentro la coppia, dicevi prima, in qualche modo riesci a superare. La coppia assolutamente sì, con un percorso di amore, principalmente per me, a differenza sua, l'amore e il sentimento ha un motore trasgressivo. Il motore. A due. Che bella che sei. Volevo invece sentire Marco perché prima di svelare l'identità di chicca avevi mostrato un certo interesse. Prova a dire di no. No, no, no. A parte che rientro nella quasi totalità che non si era accorto minimamente per questioni di voce, probabilmente, di postura, di tante cose. Per cui è stata ovviamente una sorpresa. Però ecco, non fa che confermare quello che dicevo, cioè che non stiamo parlando di dei fenomeni da guardare con distacco. Stiamo pensando di persone che ti possono affascinare, incuriosire a livello sessuale o a livello umano, a tanti livelli. Però stiamo parlando di tutti. Qui siamo tutti persone, ognuno di noi, se andiamo a scavare, c'ha qualcosa di cui si vergogna, qualcosa che gli ha dato problemi nella vita. Tutti. Dal primo all'ultimo. Chicca. A lui credo. Lui dice delle cose, ma si vede che è tranquillo, non ha paure. Chicca, perché gli uomini preferiscono una trans piuttosto che una donna? Ma guarda, io penso sicuramente, ma ho giusto un esempio di un ragazzo che ho visto poco tempo fa, che è un ragazzo che frequento. Praticamente lui e un suo amico si sono confidati appunto che andavano con una trans. E con la trans ero io ovviamente. E allora uno era un po' più, eh però, insomma, invece l'altro gli ha risposto guarda, va bene così, sono un po' froccio. Ma chi se ne frega, sarò che un po' froccio, ma chi se ne frega, però se mi piace, mi piace, basta. Per cui vedi, ci sono quelli che assolutamente la prendono, ma sì, chi se ne frega. Erano gelosi, erano gelosi. No, 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 no. Anzi, è stato meglio che se lo sono detto, così almeno ci siamo anche divertiti di più poi. Per cui vabbè. Però, vedi, ci sono tanti... Ma un uomo consapevole che esce con te, cosa ti chiede? Che ti funzioni, perché se non ti funziona non ti vogliono più la seconda volta. Veramente? Sì, sì. Quindi è proprio perché tu hai il membro? Sì, sì. Sulla questione del perché agli uomini piacciono le trans, volevamo sentire la di mia luxuria. Spesso mi sono chiesta cos'è che può spingere un uomo a desiderare una transessuale a una donna e un uomo, oppure a desiderare tanto una donna quanto una transessuale. A volte l'ho anche chiesto ad alcune persone che hanno avuto, come dire, il piacere, l'esclusiva di, insomma, conoscermi di più nell'intimità. Alcune volte le spiegazioni, secondo me, sono più degli alibi che dei veri e propri ragionamenti sinceri, perché per esempio quando si dice perché siete più femminili di una donna, oppure quando si dice perché certe cose le sapete fare meglio di una donna perché conoscendo l'organo sessuale maschile sapete come si può provocare, stimolare, suscitare dei piaceri in un certo modo. Quello l'ho sempre reputato un po' un alibi. La verità è che secondo me una transessuale non piace, non scatene il desiderio in quanto surrogato oppure così vicinanza alla donna, ma proprio in quanto transessuale. Cioè una trans piace perché è dotata di caratteri sessuali femminili e soprattutto diciamo i secondari femminili, quindi penso al seno e poi caratteri sessuali primari e quindi penso all'organo sessuale, al pene, al maschile. Quindi l'idea di avere insieme il maschile e il femminile in uno stesso corpo secondo me è quello che scatena di più, diciamo così, la voglia, la curiosità di un uomo. Ti ci ritrovi? Sì, mi ci ritrovo. Perfettamente spiegato? Sì, sì. Giorgio aveva una domanda, curiosità, provocazione, mettiamola come vuoi. Vai. Oggi Chicca, per quanto mi riguarda, ha veramente fatto da spartiacque. Cioè lei oggi ha detto una cosa, perché parlando fra molti amici miei, fra uomini, neanche nella mia fantasia che stavo dicendo prima, moltissimi pensano, o relegono sbagliando chiaramente il trans, ecco è come fare del sesso anale, diciamo, con una bella donna. Invece lei oggi, qua è stata grandiosa, ha detto una cosa chiara, cioè se tu vieni con me devi fare, cioè devi anche curarti del mio membro e a quel punto è meraviglioso perché per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda, la mia fantasia onestamente si spegne, si rimane, ma si spegne molto, ed è importante perché moltissimi, tra l'altro moltissimi ragazzi sminuiscono poi la figura del trans, quindi mancano di rispetto, perché se tu vai col trans tu devi accettare la sua sessualità a 360 gradi, questo è molto importante. È una cosa in più. Sì, no, è un'altra sessualità. Non è una cosa in più. È quello. È quella, è un'altra cosa. Non ho qualcosa in più, è così. Allora, visto che siamo arrivati un po' al punto di svolta, vi voglio far vedere un altro filmato. Amore, ti prego, sottomizzami, sottomizzami. Ti prego. Ti prego, amore, sottomizzami. Ma non lo so, non mi va. Sì, ti prego. Amore, tu sei il mio primo vero uomo. Sottomizzami. Ma senti un po', brutta, fedosa, bocchese, caro ignora. Ma tu la fai a posto per farmi sentire ignorante queste parole di feci. Ma questa cosa che buccheria è? No. Che non ti capisco. No. Che caspata sarebbe? Scusa, amore. Ma scusa, una cippa di minghia. Che maniera di parlare? Sì, signore. Io sono ignorante e me ne vado. No, te lo giuro, amore. Ho detto così perché è una cosa difficile da dire. Ma voi, io queste buccherie vostre non le conosco. Che è sta cosa? Sottorezmo, sottorazzo, ma che che è? Sottomizzami. Sarebbe. Chi tu sarebbe? Ma quando sei complacata, ma chiama le cose col nome sono? L'amore. Era una cosa d'amore. Non si può. Diventa una volgarità. Che volgarità. Nell'amore non c'è volgarità. Ah, ve la siete inventata voi bocchese, la volgarità. Ma com'è, cattia? Ti vengono certe idee, ah? Ah, così. E che te credi che a mia certe cose si dicono così? Qui entriamo nella penetrazione a tutto tondo. Uomini, donne, perché il sesso anale unisce tutti. Ma non ne parliamo subito. Ne parliamo tra pochissimo qui alla Maleducazione. Bentornati alla Maleducazione. Questa sera stiamo parlando di tabù e siamo arrivati al sesso anale. Dicevo prima, è una cosa che unisce uomini e donne perché il sesso anale non ha nessuna preclusione di genere. Potrebbero farlo tutti, ma c'è chi lo fa, chi lo predilige e chi invece proprio non riesce neanche avvicinarsi all'idea di praticare sesso anale. Giorgio? Totalmente favorevole. A farlo? A farlo, no, praticarlo, ripeto, c'è quel problemino, purtroppo non riesco a... Ma ti spaventa o è un fastidio? Un po' mi spaventa e un po' penso mi infastidisce, onestamente. Mi piace farlo invece e mi è, diciamo, mi è cominciato a piacere in tarda età perché quando ero ragazzo era molto difficile anche trovare delle donne, magari lo facevano, lo facevano senza dichiararlo, che adesso si dichiarino attratte dal sesso anale. L'uomo, io credo, e gran parte dei miei amici l'hanno sempre considerato come il massimo della prova. Ecco, quella si è arrivato fino a questo punto. Come se fosse un dono. Bravissimo, un dono. E io personalmente lo vivo come la donna che, oltre a darmi tutto quanto, mi dà anche una cosa che sicuramente, anche nell'immaginario, è una sorta di tabù, è un qualcosa di proibito più che altro. Perché secondo te è qualcosa che potrebbe non piacere e quindi ti viene dato come dono? Esatto, diciamo la verità, non tutte poi le donne amano il sesso anale. Ci sono alcune che proprio non lo amano. Che cosa ne pensano le donne? Per esempio, chi lo fa? Flaminia? Flaminia? Cosa no? No, sì, cioè, nel senso non è che ho tutta questa grande esperienza, però una volta ho provato, perché non ero impaurita dalle dimensioni, allora ho detto, poverino, ho detto, dai, con lui proviamo così vediamo un po'. E com'è stato? Eh? E com'è stato? Carina, sì, sì. Però, per te la dimensione ridotta? No, sì, ho detto, vabbè, è la prima volta così, poi non lo so se con qualcuno un po' più... Esatto, magari può essere... Un teoria più lungo è il membro dell'uomo, più è piacevole perché riesce ad arrivare più in là e quindi si supera la parte di dolore e tensione iniziale se arriva al piacere. Allora, mi leggo questa citazione e poi vorrei sapere che cosa ne pensa Morgan. Allora, questo è un sonnetto di Verlaine dedicato proprio a... Vediamo se indovinate da sole e da soli. Oscuro e increspato come un garofano viola respira, umilmente rannicchiato nel muschio umido, ancora d'amore che segue il dolce pendio delle bianche natiche al limite dell'orlo. Diciamo che la zona è meravigliosamente descritta. Morgan, tu che sei un attore di film porno, per cui è una grandissima esperienza. Tu lo pratichi? Lo pratico, sì. Io mi trovo d'accordo con Giorgio e... Lo pratichi ma non lo ricevi? No. Ma non l'hai nemmeno provato? Mai. Non l'ho proposto? Neanche con un sex toy? Neanche con un fallo? No, no. Mani? Con le mani, sì. Lingua? Con le mani però, voglio dire, non è stata proprio una penetrazione completa, è stata più una stimolazione. E quando tu invece lo pratichi, le donne... Guarda, ci sono... Alle donne piace ricevere sesso anale? Se lo pratico è perché comunque sia alle donne piace, perché ci mancherebbe se sto con una donna quale non piace, non è che gli dico adesso gira e ti facciamo sesso anale. No, assolutamente. È sempre una cosa condivisa da tutte e due. Perché vedendo la risposta delle nostre amiche, mi sembra di capire che il sesso anale piace e non è quell'imposizione di sorpresa e timore che spesso viene rappresentata. Anzi, mi piace. In alcuni casi da quello che sento poi, dà anche più soddisfazione e più piacere del sesso normale, del rapporto vaginale, insomma. Giorgio dice bene. No, una cosa però, permettimi, non condivido una cosa di Giorgio, quando lui dice è un dono, secondo me non è un dono, assolutamente. Secondo me è un gioco che puoi decidere di fare o di non fare, non è un dono, dai. Per questo che abbiamo chiesto a... Sono troppo romantico. Per questo volevamo capire se è un dono oppure se è una pratica che le donne fanno con piacere, altro che dono. Mi piace, lo faccio, anzi, te lo chiedo anche, Julia, che pratica sesso anale. Per te è un dono o è un tuo piacere per solo? No, è un mio piacere, è la mia zona erogena più sviluppata. Per me non esiste un rapporto senza anche sesso anale. Mi piace proprio. E come reagiscono gli uomini quando tu chiedi il sesso anale? Bene. Ti sei mai sentita giudicata? Non starei con un uomo che considera che io sono troppo sé o pervertita perché mi piace il sesso anale, proprio. Non sarebbe un mio compagno di sesso. Cos'è che ti piace? Le sensazioni che mi provoca. Il tipo di sesso che mi piace di più, non saprei come spiegarlo. È una questione di piacere. Sì, sì, sì. Invece chi è che lo vive come un dono verusca? Sì, perché io... Per te invece il sesso anale è un dono che tu fai? Io riesco a praticare sesso anale soltanto quando c'è di mezzo un sentimento forte. Cioè io mi concedo analmente soltanto ad una persona che amo profondamente, altrimenti non riesco. Ma ti piace quando lo fai? A volte sì e a volte no. Devo stare molto rilassata. Un po' come Flaminia. Devo proprio sì essere molto rilassata. Devo acclimatarmi. Perché altrimenti non è una cosa che amo particolarmente. Per questo lo concedo soltanto a chi lo merita. A chi lo merita è proprio come un dono. Ma è una questione di fiducia? Anche, sì sì. Ma anche perché la considero proprio una cosa molto molto intima. Deborah invece? Non è necessario che ci sia amore né la reputo di un'intimità differente da quello che è il sesso nelle altre espressioni. Può piacermi di più, di meno. Flaminia giustamente con le dimensioni non tirava in ballo un argomento indifferente. Comunque ovviamente è una zona più stretta, meno disponibile a venire allargata o a venire penetrata. Però penso che quando qualcuno si applica riesca indipendentemente dalle dimensioni. Sì, esatto. E tu come lo vivi? Fa parte del mio erotismo. Senza arrivare a preferirlo come dice la Giulia. Vorrei sentire sul sesso anale quello che ci ha raccontato Alessandro Cecchi Paone. Il sesso anale è un tabù nel momento in cui il sesso deve essere ancora finalizzato alla procreazione. Perché è chiaro che il sesso anale prevede il soddisfacimento dei due partner, la ricerca del piacere, il rafforzamento della coppia attraverso un momento di donazione reciproca di felicità. È chiaro che se si deve fare sesso soltanto per procreare, è chiaro che siamo di fronte a un peccato, a un reato e a un tabù. Ma è chiaro anche che in un ambito diverso di cultura liberale e democratica tutto questo è non solo stupido e sbagliato, ma addirittura ridicolo. Molti uomini cosiddetti eterosessuali desiderano la penetrazione, la chiedono alle loro compagne attraverso anche l'uso di strumenti, di liberatori o di oggetti. Ma è semplicemente la dimostrazione che il soddisfacimento dei bisogni del corpo, ma anche dei bisogni delle sensazioni e delle emozioni, passa attraverso tutta la struttura fisica e che non c'è motivo di limitarla ad alcuni distretti, ad alcuni momenti e ad alcune funzioni. Io penso anche che ci siano molti uomini che si sono persi e si perderanno per sempre. Il piacere dell'utilizzo di certe tecniche e di certe parti del corpo e quindi vivranno una sessualità dimezzata o ridotta a una sola parte del loro corpo e a una sola funzione del loro apparato di piacere. La sessuologia, la medicina, la neurofisiologia ci hanno insegnato che l'intero corpo è fatto per dare e per ricevere piacere e quindi non si vede perché l'ano in quanto tale debba essere escluso mentre stiamo imparando che può essere piacevolissimo stimolare il lobo dell'orecchio piuttosto che la pianta dei piedi. Piuttosto che la pianta del piede. Alessia, per esempio, non pratica sesso anale. Dice no. No, l'ho provato, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto, per me sarà un limite... Non so di che... È il tuo tabù? Sì, forse è un tabù. E non riproveresti, ma non ti è piaciuto perché è stato doloroso? La prima volta è stata dolorosa molto e penso anche dovuta alle dimensioni. Infatti le altre due volte che l'ho fatto con due persone con dimensioni ridotte più esperte, però comunque le sensazioni non mi sono proprio piaciute. È troppo al limite col dolore. E io ho una soglia del dolore bassissimo. Non ti piace? Non mi piace, non mi piace proprio l'idea. È proprio la rifiuto. La rifiuti? Sì. Invece Giulia, per te il limite tra dolore e piacere un po' si confonde. Sì. Ti piace confondere arrivare tra uno e l'altro. Sì, è labile. E infatti non a caso devo dire che io preferisco il sesso anale al sesso classico. Per una serie di ragioni. A parte il fatto che l'idea di rischiare in qualche modo di rimanere incinta sicuramente aiuta la fiducia nel sesso anale anziché in quello vaginale. E nell'antichità era usato proprio per evitare le gravidanze. Sì, io lo preferisco perché la mia zona erogena è la schiena e il sedere, quindi mi piace molto anche essere afferrata alla nuca. Quindi forse mi piace di più perché è un sesso animalesco. Quindi mi sento un po' come la lionessa presa alla nuca dal leone e penetrata. Forse per quello. Mi piace l'idea di essere posseduta malgrado io come tendenza sia una dominatrice. quindi teoricamente dovrei rifuggire questo tipo di... E invece? E invece nel sesso anale credo che sia l'unica situazione in cui mi piace essere presa. E chicca! Guarda, io all'inizio sì ho sentito dolore ma ho insistito. Non ho ceduto fino a quando ho trovato piacere. Beh, è normale insomma. Giustamente ha ragione, magari anche lei ha avuto magari quell'esperienza non troppo... Quanto tempo hai impiegato per provare piacere? E ostinatamente hai continuato a provare finché... Per forza tesoro, se no, cioè che fai? Cioè nel mio caso ho voluto insistere. Sì dai insomma. Ti chiedono di essere attiva gli uomini o la percentuale è la medesima? No, ultimamente molto attiva. È una moda se sta spostando da qua. Sì, non va mica bene, che sono d'accordo con te. È un momento brutto. Non va mica bene. Eleonora che voleva dire una cosa? No, volevo dire che io ho avuto una prima esperienza un po' traumatica. Col sesso anale? Col sesso anale. Per cui da quella volta in poi ho fatto molta fatica. Però, come dice Chicca, ho voluto un pochino insistere più avanti, negli anni, per capire anche il mio piacere dove poteva arrivare. E piano piano mi sono un po' lasciata andare e adesso ogni tanto sì, però lo devo chiedere io. Lo devi chiedere tu, se ti viene chiesto? Se mi viene chiesto un pochino mi rigidisco e allora lì è più faticoso. Ambra? Nello specifico ho avuto un uomo che io gli chiedevo di praticare sesso anale e lui assolutamente non voleva perché sosteneva che gli facesse malissimo il pene in questa... In questa cosa, non ce la faceva. Non riusciva a praticare sesso anale. A lui faceva male. Marco? Può essere che un rapporto anale per un uomo sia doloroso? Nel senso praticarlo? Sì, può capitare, però diciamo dipende, normalmente non capita, diciamo. Per me non è una pratica imprescindibile, non è come, non so, il cunnilingus che secondo me è assolutamente insostituibile. Ah, tesoro. Questa è una pratica che ci può essere o non ci può essere in funzione dell'importanza e il simbolo, cioè quello che la donna investe in quello. Cioè io non sono uno che insiste nel... Se la donna lo... alla donna piace, quindi in questo senso segui proprio la sua natura, la sua... a me piace molto riuscire a capire ogni volta che cosa piace alla mia partner e questa interattività di rispondere su quello che le piace mi fa impazzire. Vorrei chiedere a Fabio, visto che tu, ricordiamolo, sei passato da etero a omosessuale, tu come lo vivi il sesso anale? Allora, il sesso anale ho dovuto superare un secondo lo scoglio del sesso anale riceverlo uguale perdita della mia virilità o della mia mascolinità in quanto tale. Perché credevo questo? Probabilmente il suo inconscio ha giocato un po' male all'inizio, per cui tra virgolette ero più attivo. E poi l'unica cosa che vi dico, lascia un po' il tempo che trova le dimensioni, sono un po' discorsi che per me lasciano il tempo... Era il tuo tabù? Era un mio. Era il tuo tabù? Che hai superato? L'impatto psicologico, quando io personalmente ho capito che non andavo a perdere nulla dell'essere uomo, mi sono lasciato andare, era andata molto meglio. Credo che l'impatto psicologico, anche nelle donne, giochi molto a favore o a sfavore. Quello, basta lasciarsi andare. E mi viene da chiudere per forza questa serata della Maleducazione, rimandando tutti quanti sul nostro sito www.lamaleducazione.la7.it Pensieri stupendi anche su tabù, con Giorgio. Credo che vorrei chiudere parafrasando un noto proverbio, quindi togliere un tabù al giorno toglie il medico di torno. Quindi fare un tabù al giorno... Esatto, è una scuola diciamo. Una scuola. Una scuola di pensieri. Va bene, noi vi salutiamo, buonanotte e pensieri stupendi a tutti. Grazie a tutti.